guardarsi allo specchio e non riconoscersi è un'esperienza sconcertante. La seconda serie di Twin Peaks si conclude con una scena del genere mostrando Dale Cooper che si scopre posseduto dal demone Bob. Ma gli specchi possono essere ingannevoli in maniere più subdole. In questa scena dal primo episodio di Ai confini della realtà non ci accorgiamo dello specchio fin quando il protagonista ci sbatte contro. Rivediamola, crediamo di osservare la realtà ma stiamo vedendo il suo riflesso. Ce ne accorgiamo all'improvviso e il nostro shock rispecchia quello dell'uomo. Ma c'è una seconda sorpresa che arriva dopo. Se questo è uno specchio dov'è la telecamera che sta riprendendo la scena? Questa è chiaramente una sequenza impossibile. Negli Stati Uniti ai confini della realtà si intitola The Twilight Zone, la zona del crepuscolo. Non a caso ho intitolato così il secondo volume della mia serie Mesmer. Ma di uno specchio magico parlo anche nell'arte di stupire, dove descrivo l'esperienza che ho vissuto a Londra davanti allo specchio che riflette tutto tranne me. Nell'episodio 244 ho mostrato l'illusione di Rubik, un gioco in cui una pedina gialla al di là dello specchio appare come rossa. Proseguendo nell'esplorazione di questo principio, Mark 7 Ducati ha ideato questo puzzle che è l'oggetto più sorprendente della mia collezione. Scopo del gioco è di comporre l'immagine della gioconda usando queste nove tessere. Ogni pezzo presenta un riflesso incoerente. Il volto della Mona Lisa, per esempio, diventa il frammento di un polso. L'impresa è più difficile del previsto perché si deve monitorare di continuo quel che succede dentro lo specchio. Il risultato è sorprendente. Quando i nove pezzi sono nel posto giusto, la gioconda appare per metà nello specchio e per metà nel nostro mondo. Il principio era stato descritto da Ignazio Danti, che nel 1583 aveva spiegato come si faccino quelle pitture che dall'occhio non possono essere viste se non riflesse nello specchio. Dieci anni dopo Ludovico Buti aveva realizzato una pittura doppia. Guardando attraverso uno specchio un ritratto del duca di Lorena, appariva l'immagine di sua figlia Cristina, moglie di Ferdinando I de' Medici. L'oggetto è oggi custodito nel Museo Galileo di Firenze, dove si trova anche questa tavola secentesca. Guardandola da sinistra si vede l'immagine di un santo, guardandola da destra appare la Madonna. I risvolti politici di questa illusione sono enormi. Quando ci osserviamo allo specchio, crediamo di vederci senza filtro e non ci accorgiamo di indossare lenti molto severe. La società ci vuole magre, in forma, senza peli, brufoli, macchie e inestetismi. Farci sentire persone brutte serve a vendere rimedi, diete dimagranti, creme, rasoie e sessioni in palestra. Per denunciare questo inganno è nato questo, un adesivo da incollare sugli specchi pubblici di tutto il mondo, su cui si legge, attenzione, l'immagine qui riflessa può essere distorta dagli stereotipi sulla bellezza imposti dalla società. L'iniziativa è diventata virale e sempre più persone condividono il proprio selfie di fronte a questo ammonimento. Nella spietata società normativa in cui viviamo, tutti gli specchi sono deformanti. Grazie a tutti.